Gli avevano chiesto un incontro ma per quell'appuntamento avevano premeditato un omicidio a tre anni dall'omicidio di Carlo La Duca. Carabinieri e procura sono ormai convinti, i suoi killer sono la ex moglie e il miglior amico. Su richiesta dalla procura di termini imirese e per ordine del GIP del Tribunale di Palermo sono finiti in manetta la moglie di La Duca, Luana Kamalleri, 36 anni, e il miglior amico della vittima, Pietro Ferrara, 57 anni, bracciante, impiegato nei terreni di La Duca. I due secondo quanto emerso avevano una storia extracognugale ma non avrebbero voluto i tempi della separazione. Nonostante tutto l'iter fosse già stato avviato. Alla base del delitto ci sarebbero questioni di soldi e terreni, questo è quanto è trapelato secondo le ultime informazioni. I due secondo quanto emerso avevano una storia extracognugale ma non avrebbero voluto attendere i tempi della separazione. Nonostante tutto l'iter fosse già stato avviato. Alla base del delitto ci sarebbero questioni di soldi e terreni. Questo è quanto trapelato secondo le ultime informazioni.